Ciao, sono Anna. Anna Baker. Esatto. Non smanettate sul qualunque cosa stiate usando per ascoltare. Sono io. In diretta e stereo. Nessuna replica. Nessun bis. E questa volta, assolutamente nessuna richiesta. Mangia qualcosa e mettiti comodo, perché sto per raccontarti la storia della mia vita. Anzi, più esattamente il motivo per cui è finita. E se tu hai queste cassette è perché sei uno dei motivi. Non ti dirò in quale cassetta comparirai, ma non temere. Se hai ricevuto questa simpatica scatola, il tuo nome spunterà fuori, te l'assicuro. Comunque, le regole sono piuttosto semplici. Ce ne sono solo due. Regola numero uno. Ascolti. Numero due. Passi. Se va come penso, non sarà facile. Non deve essere facile. Se no, ti avrei mandato un mp3 via mail. Quando avrai ascoltato tutti e tredici i lati, perché ci sono tredici lati di tutte le storie, riavvolgi i nastri, rimettili nella scatola e passali alla persona successiva. Ah, nella scatola dovrebbe esserci anche una cartina. Parlerò di parecchi posti in giro per la nostra adorata città. Non posso costringerti ad andarci, ma se ti piace scavare più a fondo, segui le stelle. Oppure, se vuoi, puoi buttare la cartina e io non lo saprò mai. O forse sì. Sei arrivato alla prima casa in cui ho abitato. In cui ho organizzato la mia prima e ultima festa. Dove ho conosciuto Justin Foley, il protagonista della nostra prima cassetta. Era solo una festa. Non immaginavo che sarebbe stato l'inizio della fine. Ecco. Lo vedi? Qui è dove sono iniziati i guai. Quel sorriso. Quel maledetto sorriso. Amici di The Man Under The Hood, benvenuti e bentrovati. Questa sera nuovo appuntamento di Cison Cascato di nuovo, quindi quel format originale targato The Man Under The Hood che va un po' a giocare e a intervistare, intervallando momenti emozionali, aneddoto, racconto, a momenti performance a gioco con quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop. Unico prerequisito però essere stati precedentemente invitati ad un nostro Live Talks. Prima di iniziare una super puntata, perché sono molto felice della puntata di questa sera, vi vado a ricordare quello che noi saremmo veramente tanto tanto felici voi faceste e lo state facendo in tanti. Spero che lo facciate sempre di più. Quindi mettiamo mi piace a tutti i social, attivate le campanelle dove ci sono. Iniziamo con YouTube e Spotify dove potrete soffrire di quelle che sono le puntate complete, fino ad arrivare a Instagram e TikTok per dei momenti clip dove noi andiamo a ritagliare dei pezzi che consideriamo rilevanti e li andiamo a mettere su questi social bombardandovi per circa tre volte al giorno, tutti i giorni. Io dico bombardandovi ma so che è una cosa che vi apprezzate. E in più, Dulcis in fondo, c'è anche Telegram per usufruire di quelli che sono i contenuti backstage, quindi per vedere lo studio, un po' dei momenti durante i riposi tra una cosa e l'altra. Seguiteci ovunque. Stasera con me c'è Spanchi. Ciao Spanchi. Ciao. Soprannominata la talpa da questa sera. Ma sei pessimo. Anzi che non dico cosa stavi facendo quando è arrivata all'ospite questa sera perché se stavo... Stavo pulendo gli occhiali. Stava per chi ha visto a Meteor Mother mangiando un grandissimo panino. Ma non è vero, perché devi dire queste cose? Non è vero. E non dico altro, però stasera abbiamo con noi un'amica del canale, un'attrice e doppiatrice straordinaria che sono molto felice di avere con me qui in presenza. Diamo il nostro benvenuto a Martina Pelli. Ciao. Ciao Martina. Ciao. Come stai? Agitata, emozionata, ma bene. Dai, tutto a posto. Che bello, dai. È fantastico. Ha portato una ventata di gioia e di freschezza con questa bella camicetta, invece tu sei sempre... Sto sparaflesciando troppo con questo colore. No, sei fantastica. Sono in tinta con il muro di mattoni. Bellissimo, bellissima. Hai già iniziato a tirare fuori la lingua Spanchi? Va bene, va bene. La gente prima o poi ci stuferà di queste due maldicenze. Le mie battute becciare. Deve vero, è vero. Anche Martina mi ha rimproverato un pochino. Ah, brava. Sì, brava. Non la devi trattare male. Ma io la tratto come una principessa. Basta mobbing, io sono contro il mobbing. Ma io non lo faccio assolutamente, anzi... Forse ho un lavoro se tratterebbe mobbing, invece è proprio bullismo totale. Bullismo, esatto, esatto. Ti bullizzo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. A proposito di teme, adesso torniamo un po' seri, perché qua il tema del bullismo è serio. Noi ovviamente scherziamo durante le registrazioni, però è un tema serio. E questa serie, infatti, di cui andiamo a parlare, con cui Martina ci ha emozionato fin da subito, tratta molto il tema del bullismo e inizia proprio con un avvenimento catastrofico, che è quello peggiore che può capitare, ossia che il bullizzato, comunque la persona che ha subito una violenza, che può essere psicologica, fisica, in vari modi, la violenza, si toglie la vita e decide di togliersi la vita. Un teenager addirittura. Che ci vuoi e puoi dire su questo prodotto? Insomma, come ti ci sei approcciata? Perché è una responsabilità, immagino, grande, no? È stata una responsabilità grande. Io, quando ho sostenuto il provino per Anna, non avrei mai immaginato che sarebbe diventata un cult questa serie. Credevo, vabbè, è l'ennesima serie teen sui ragazzi che vanno a scuola, innamoramenti, tradimenti, però non pensavo che avrebbe avuto questo tipo di risvolto. E mi sono approcciata al prodotto con tutto il rispetto di cui sono stata capace, anche perché, come ho detto tantissime altre volte, e lo so che sono monotona, che sono noiosa, però io, doppiando Anna, ho lasciato proprio un pezzo di cuore in lei, perché ho un po' sofferto con lei. Io non ricordo gli anni delle superiori come i più belli della mia vita e invidio e anche un po' ammiro le persone che invece ne servano un ottimo ricordo e che dicono, ah, gli anni più belli in assoluto. Per me le superiori sono state un inferno. Anche le medie, ma le medie eravamo tutti un po' più piccoli, quindi non ci rendevamo bene conto delle cose. Le superiori, quando si cresce, quando si matura, o almeno si dovrebbe farlo in teoria, non ti scegli i tuoi compagni di classe, ti ritrovi a sopportare le stesse persone per cinque anni e o bene bene o male male, cioè non puoi, non c'è molto, non hai margine di manovra, te li devi far andare bene e loro dovrebbero farsi andare bene te. Il problema è che non sempre è così. Nel mio caso io sono sempre stata un outsider, un po' perché io sono, ero un anno avanti, non ho fatto la scuola, cioè non ero insieme ai miei coetanei, perché mia mamma ha avuto la brillante idea di farmi fare la primina. Quindi ho studiato con lei e al momento di entrare alle elementari io sapevo già leggere e scrivere e quindi le maestre giustamente hanno detto cosa la mettiamo a fare in prima elementaria va direttamente in seconda. Quindi io classe 87 mi sono ritrovata per tutto il mio percorso scolastico con i ragazzi dell'86. Mici più grandi. Ma lo sai che è la stessa cosa che è accaduta a me? Perché io sono 87 e ho fatto la primina. Ah ma pure tu! E quindi mi sono ritrovato, cioè proprio la stessa identica situazione. Ma è stato un trauma anche per te? Allora io devo dire no, cioè nel senso io mi ricordo quegli anni, sì, ovviamente persone con cui vado d'accordo, altre meno, però per come sono fatto caratterialmente sarà anche il fatto che giocavo a calcio, ero piuttosto bravo e quindi il fatto di essere bravo in uno sport così popolare di contro ti, è brutto dirlo, però ti spiana la strada. Sì, certo, c'è l'effetto figo. Sì, esatto. E nonostante questo mi consentiva di far passare inosservati dei miei comportamenti o delle mie stranezze o quello che gli altri consideravano strano, come per esempio portare alle medie carte Pokémon a scuola. Altri sarebbero stati presi in giro, a me non si permettevano, no? Anche questa cosa. Eh, che bella cosa. È uguale con i fumetti, cioè io non ho mai nascosto quelle che erano le mie passioni, però ho avuto il grande cuscinetto dell'essere bravo in uno sport che mi ha salvato da critiche eccessive o comunque quei comportamenti che sono brutti, no? No, invece a me non ha salvato niente perché io sono stata un outsider per tutto, appunto perché ero tipo l'unica in tutta la classe ad apprezzare manga e anime, però non avevo nessuno con cui parlarne perché sostanzialmente ero l'unica fan e non ero, non eccellevo negli sport perché a educazione fisica era una patata praticamente e quindi mi ricordo questi traumi di quando il professore di educazione fisica ci diceva Benissimo, adesso formate le squadre, io ero sempre l'ultima a essere scelta, ultima o penultima perché ero incapace a fare qualsiasi cosa, quindi non c'era niente che mi potesse salvare, nulla e quindi ovviamente complice il fatto che sono sempre stata bravina a scuola, ho sempre avuto voti abbastanza buoni ovviamente mi sono attirata le antipatie delle mie compagne di classe, quelle che magari andavano meno bene e quindi rosicavano, mi sentivo dire alle spalle la qualunque, mi facevano i dispetti Ma tu li passavi i compiti? Io ero abbastanza, cioè li passavo alle persone che meritavano meritavano, ovviamente quelle che mi bersagliavano non avevano la faccia tosta di chiedermi i favori al limite mi avranno chiesto qualche fotocopia qualche volta, però no, i compiti sì, una volta ho passato, durante un compito in classe ho passato una risposta a una ragazza mi hanno beccata e mi sono presa anche un bel voto in meno per questo, quindi sono pure scema no, però no, non ho un ottimo ricordo della scuola e quando appunto ho doppiato Anna, mi sono rispecchiata in lei la sequenza, la scena che mi ha fatto più male è quando lei viene abbandonata dai suoi amici quando lei lega tanto con Jessica e non mi ricordo l'altro come si chiama perché sono passati tanti anni, scusatemi però a un certo punto lei viene proprio accantonata in favore di altri e siccome è una cosa che ho sperimentato anch'io ed è un dolore atroce perché la mia cara amica, almeno quella che credevo fosse la mia migliore amica dell'epoca da un anno a un altro, smise completamente di parlarmi e quindi dopo le... come nei film proprio sì, come nei film e dopo le vacanze estive io rientro alle superiori, iniziavo il secondo anno e lei mi passò oltre senza degnarmi di uno sguardo quindi questa è una ferita che ci ha messo tanto a suturarsi, tantissimo tu non sai le motivazioni io non me l'ha mai spiegato però credo ci sono arrivata dopo mesi e mesi e mesi di lunghe sofferte riflessioni cioè io essendo l'outsider della classe diciamo che era un po' disdicevole farsi vedere in mia compagnia forse penso che lei si vergognasse e che per mantenere la sua reputazione abbia pensato di allontanarmi per avvicinarsi più a quelle, alle ragazze più fighe diciamo, quelle più popolari quelle che magari a scuola come voti andavano anche meno bene ma che non erano la sfigata che ero io quindi ho pensato sì, la motivazione poteva essere solo quella perché effettivamente ci volevamo bene disegnavamo insieme, parlavamo... ecco lei era l'unica con cui potessi parlare di cartoni però ecco appunto da un anno an altro sono stata completamente accantonata ma va bene, è la vita va bene così comunque perché se una persona che fa questo per non essere vista in compagnia di non essere bersagliata per motivi X, meglio perderla che... sì, sono assolutamente d'accordo però posso dire che è brutto, cioè che è brutto che i ragazzi non possono essere se stessi perché la società, i genitori, i bulletti, no? si sentono in diritto di dire no, tu vai bene, sei giusto, no? tu sei strano, sei sbagliato cioè questa è una cosa bruttissima e poi ti rovini quelli che dovrebbero essere, no? gli anni più belli della tua vita sì diventano gli anni più brutti della tua vita cioè qualcuno si è fatto risentire dopo la tua strabiliante carriera è successo una cosa un po' strana cioè no, nessuno si è fatto... cioè quasi nessuno si è fatto risentire direttamente sono stata giunta su Instagram da un mio ex compagno delle medie e io l'ho riconosciuto subito che mi ha messo il follow io ogni tanto vado a vedere per curiosità i profili delle persone che mi aggiungono e vediamo un po' questo chi è anche per togliere eventuale spam e l'ho riconosciuto subito lui allora gli ho scritto, gli ho detto che bello ma sei tu e lui ah sì sai ti sto seguendo, ti ho sentito in varie cose però ecco lui siccome è un compagno delle medie non avevo un brutto ricordo di lui delle superiori... qualche anno fa qualcuna aveva tentato di riaggiungermi su Facebook ma io l'ho bellamente ignorata perché era una di quelle che mi prendeva sempre in giro e non volevo, cioè non mi interessava, non volevo che lei sapesse i fatti privati della mia vita cioè la mia carriera perché tanto sapevo che lei voleva solo farsi gli affari miei senza apportare niente di buono nella mia nuova vita cioè eri sicura che non fosse cambiata ma che fosse la solita sanguisura ma poi la tua carriera è pubblica se voleva solo conoscere qualcosa lei è perché voleva proprio farsi gli affari a livello personale sì ma sì perché poi ora Facebook ho smesso di usarlo lo usano solo i Boomer adesso, saluto tutti i Boomer ciao Boomer comunque no ma un tempo sì ti aggiungevi alla lista delle persone per spiarle cioè perché Facebook nasce per rimorchiare e per spiare la gente quindi non c'è un proprio un'altra motivazione e no lei l'ho rifiutata e mi sono riavvicinata io a questa ragazza che poi mi aveva gostata bellamente da un anno all'altro perché poi l'ho ricercata per curiosità su Facebook e ho visto che aveva aperto un'attività che realizzava delle cose molto carine in Fimo e allora niente le ho scritto e ci siamo un po' riscritte lei a volte mi scrive per dirmi che mi ha riconosciuta in qualche prodotto diciamo che io non mi aspettavo di ricucire con lei quindi non hai avuto rancore nei suoi confronti no ma sono passati tanti anni alla fine io me le leggo anch'io me le leggo al dito se mi hai fatto qualcosa non ti fai mai più sentire ma anch'io sono molto permalosa e sono molto rancorosa però cerco anche di capire cioè sono passati veramente tanti anni e sono passati 22 quindi non mi interessa più a quel punto poi lei fa la sua vita io faccio la mia mi interessava mettere cioè mettermi l'animo in pace riparlarci poi lei comunque è stata carina le ho comprato delle cose che ha realizzato perché comunque è bravissima ha una manualità meravigliosa e ogni tanto appunto mi scrive per dirmi che mi ha riconosciuta e per me è una bella soddisfazione poi no gli altri completamente persi qualcuno ogni tanto al paesello quando incontra mia madre perché io arrivo da un paesino di montagna e alcuni dei miei ex compagni delle superiori sono rimasti lì o almeno gravitano sempre in quella zona io credo di essere l'unica a essere scappata così lontano però qualcuno quando vede mia mamma dice ah ma Martina come sta me la saluti tanto ah si ho un buon ricordo io mi dico com'è un buon ricordo di com'è possibile 404 error no comunque niente l'ho apprezzata questa cosa perché nonostante tutto nonostante mi abbiano devastata in certi giorni perché mi ricordo certe cose che sono successe addirittura un giorno fu fatta un'assemblea di classe e si parlò esclusivamente di me ma dai perché io ero perché non mi integravo perché ero un problema per la classe quindi me le ricordo sono quei traumi che ti restano però nonostante questo essere rimasta bene o male nel pensiero di qualcuno anche perché avranno visto e sentito qualcosa che ho doppiato mi conforta diciamo che è la mia piccola rivalsa quindi sono contenta così che bello senti visto che abbiamo aperto abbiamo aperto l'argomento perché ha detto che è una grandissima fan era magari anche adesso di anime e manga sì e noi ti abbiamo sentita su tantissimi anime io sono molto fan di Miro Accademia dove mi droga quindi ti farò una domanda inerente a quello però generalizzando come è stato allora quando ti hanno chiamata la prima volta per fare un prodotto anime qualsiasi visto che tu sei affezionata al genere ma guarda il primissimo turno di doppiaggio che ho fatto è stato un brusio per Shugo Chara che si dovrebbe dire Shugo Chara però abbiamo sempre detto in Italia Shugo Chara era un brusio e il primissimo personaggio che ho avuto in un anime è stato per l'appunto Dia di Shugo Chara che è una delle fatine delle follettine del segno dei quadri che Amu la protagonista usa per trasformarsi e ovviamente io sono sempre stata felice come una Pasqua quando ma questo ancora adesso quando mi chiamano a doppiare un anime anche se sono tecnicamente non stancanti di più io mi diverto torno bimba torno quella bimba che tornata dall'elementare accendeva la televisione guardava bim bum bam tutti i cartoni si cantava le sigle poi avevo il mio quadernino e mi segnavo tutti i titoli di coda quindi io allora voce Ascio Davide Garbolino Misti eccetera e mi segnavo e tante voci tanti nomi che io mi appuntavo poi li ho incontrati nella mia carriera e questo è stato è stato bello sì sì mi sono detta che bello penso a come ero piccolina che mi segnavo tutte le cose poi ho incontrato sono diventati i miei colleghi alcuni quindi sì è sempre stata una bella emozione un ricordo un pochino bello ma dolce amaro appunto è legato al primo turno al primissimo turno appunto quel brusio di che ho fatto per Sugo Chara perché ero con due ragazze una è Katia Sorrentino che è un'altra professionista molto brava ciao Katia e un'altra è Sonia Bonacina che purtroppo è mancata tanti anni fa lei era molto brava era un'attrice di teatro fantastica e aveva iniziato a fare doppiaggio da insomma da tanti cioè non da tanto tempo e aveva stava anche ottenendo i suoi ruoli i suoi primi ruoli importanti e è rimasta vittima di un tragico incidente questa cosa mi ha sempre segnata ogni tanto anche se può essere un po' macabro torno sulla sua pagina facebook che è rimasta in memoria di perché non voglio dimenticarla ecco il primo turno l'ho fatto anche con lei e quindi continuo sempre a serbare un ricordo di lei anche perché quando lei quando abbiamo fatto questo turno lei già un pochino lavorava io no e ricordo che le scrissi e le chiesi ma Sonia ma che devo fare secondo te se chiamo con lo studio e potrò assistere lei mi ha detto sì sì guarda prova a telefonare secondo me ce la farai ce l'ho ancora quei messaggi ogni tanto me li vado a rileggere sì sono un po' strana però mi piace ricordare le persone che hanno fatto parte della mia vita in un certo senso e lei è stata fa parte di una tappa importante perché è stato fa parte dell'inizio capisco benissimo non sei affatto strana anzi è una cosa molto carina molto bella ma dovendoti distribuire sull'anime dei tuoi sogni nel ruolo dei tuoi sogni quale sarebbe non lo voglio dire no lo posso anche dire perché è un anime che è già uscito su Crunchyroll ma non è stato doppiato viva Dio perché non credo abbiamo delle possibilità no ma non ce la abbiamo facciamo il nostro appello non penso non voglio stare a fare appelli per carità di Dio poi più una cosa non è detto poi oddio almeno il provino se era Massimo Trigiani stava già sotto casa del direttore sono il fan numero uno di questo prodotto ma infatti io non sono Massimo Trigiani e in ogni caso ciao Max in ogni caso c'è stato un caso in cui sono andata a pietire da un direttore perché sapevo che avrebbe avuto per le mani un progetto che mi premeva tantissimo e quindi l'ho fatto solo in un caso hai fatto il Massimo Trigiani ho fatto ho fatto la trigianata ho fatto la trigianata e se ci ripenso mi dico mi prenderei a schiaffi perché io odio le trigianate le odio le detesto e non posso hashtag trigianata però io ammetto che questa trigianata mi ha portato ad avere quel ruolo lì cioè non quello nello specifico comunque un personaggio in quella produzione alla quale tenevo nel post ci dirai svelerai nel post sì non voglio dirla qua comunque l'ho fatta solo una volta questa trigianata non credo che la farò mai più perché mi sono perché mi è uscita proprio perché questo direttore mi ha chiesto un favore perché ero già in uno studio per fare un turno e mi ha chiamato nella sala perché gli era saltata una battuta non lo so e quindi ho fatto una passante niente di che e lui mi ha detto grazie grazie allora guarda mi sdebiterò in qualche modo e mi è uscita mi è uscita ho detto ci sarebbe una cosa perché sai perché so che tu dovrai dirigere quella cosa e lui mi ha detto beh ma i personaggi sono già stati tutti distribuiti perché effettivamente sarebbe arrivata una nuova cosa di un filone e io ho detto ma veramente ci sarebbe anche quella cosa lì e io ho detto vabbè lei la butto lì tanto non mi chiamerà mai poi mesi e mesi e mesi dopo mi è arrivato il messaggio che ho detto ah oddio allora per darmi il contentino sicuramente mi ha chiamato a fare un personaggio inutile un personaggio invece no era un personaggio abbastanza importante quindi viva la trigianata solo in questo caso solo in questo ha funzionato magari era un direttore abituato a trigianare forse era un direttore abituato alle trigianate in generale perché i direttori che hanno per le mani gli anime credo che siano circondati da eserciti di trigiani ma sì perché gli anime tirano cioè hanno tanti fan anche tra gli addetti ai lavori io stessa sono diventata doppiatrice anche perché speravo di doppiare tanti anime perché io sono cresciuta con gli anime ne ho visti a quintali anche molto legalmente a partire da bim bum bam il game bot con Pietro Ubaldi mitico meraviglioso e poi quando i miei mi hanno regalato il primo computerino con il microfonino della Trust con cui mi divertivo a fare i fan dub amatoriali a casa mi scaricavo anche degli anime non licenziati ovviamente erano altri tempi erano altri tempi la geria e comunque tutto quello che ho scaricato l'ho buttato quindi nessuno mi può venire a dire niente e niente quindi tornando alla tua domanda perché abbiamo divagato troppo che era quella del un anime che è uscito su Crunchyroll e che è il remake di un anime di una storia che io conosco da tanti anni è Spice and Wolf è la storia di una lupa di una dea lupo che è rimasta bloccata diciamo perché il suo scopo era quello di favorire i raccolti diciamo la prosperità dei raccolti solo che a un certo punto sente nostalgia di casa e grazie all'incontro con un mercante in cui si imbatte per puro caso decide di tornare nella sua terra natia che è Ioitz e questo mercante la porta a parte questo viaggio di questo mercante e questa lupa con le sembianze di una ragazza ma ha le orecchie e in questo viaggio gliene succedono di tutti i colori a tutti e due e è una storia molto bella e avevo seguito l'anime quando uscì la prima volta nel 2008 2009 e poi la storia sarebbe una novel in realtà cioè un romanzo che è stato adattato in manga e anime l'anime è stato adattato la prima versione è stato adattato molto male quindi perché sono stati tagliati delle parti molto importanti infatti l'anime poi non l'hanno più proseguito è uscito il remake quest'anno e io ho temuto che venisse doppiato perché perché sapevo che probabilmente non sarebbe toccato a me Holo che è la protagonista e invece non è stato doppiato quindi non lo so se verrà mai doppiato in caso mi trigianisco un'altra volta dico io sono disponibile per fare almeno un provino almeno uno almeno uno io mi aspettavo una cosa tipo non so molto più mainstream tipo Dragon Ball ma per carità di Dio bisogna urlare fino a cioè io tengo al mio apparato fonatorio e lo sottopongo a uno stress mai visto prima perché io negli anime ma anche nei film non mi trattengo anche perché le urla sono anche sono molto terapeutiche in certi casi quando arrivo ai turni e magari sono arrabbiata per qualcosa o sono sotto stress allora se devo urlare a volte veramente è catartico io mi lascio andare poi dopo il mio apparato fonatorio mi ringrazia infatti vado di Vea Oris vado di Sufumigi vado di di spray qualunque cosa di Voxel però se io appunto non mi risparmio e quindi mi faccio male a volte a volte un pochino sì perché diciamo quando mi lascio prendere troppo dall'emotività a volte la tecnica va a farsi un po' benedire quindi non vorrei doppiare un anime come Dragon Ball o un anime dove ci sono troppi combattimenti dove bisogna urlare un sacco perché so a cosa andrei incontro quindi preferisco gli anime un po' più tranquilli ecco va bene anche per salvaguardare insomma questo strumento che hai eh sì no non lavoro più ma io mi sposterei un attimo lato Marvel perché so che tu ami molto tantissimo guarda sono una grande fan della Marvel cioè prima la Marvel e poi gli anime percepisco del sarcasmo ma no ma cosa dici ma quando mai ma io sono una grande fan ora io chiedo scusa a tutti i fan della Marvel ma io sono una pera non ho mai approfondito niente della Marvel perché è un universo che non mi attira minimamente poi se un giorno mi sveglio con la voglia di iniziare un'altra quarantena che ne sai no la quarantena no abbiamo già dato ti prego no però te li fai tutti un po' di fila anche le serie cioè partire il primo Iron Man e poi vai mi faccio istruire a dovere chiedo a un fan della prima ora da dove devo partire e poi da lì proseguo quel fan è Mauro ah perfetto allora io non sono allora non sono per niente fan Marvel degli ultimi degli ultimi prodotti perché vabbè ma lei deve iniziare sì però posso indottirla vabbè allora se un giorno mi sveglio con la voglia di iniziare di buttarmi in questo filone chiedo a te così so da dove partire no e mi è capitato comunque sì di doppiare un prodotto Marvel di cui non ho capito niente cavolo però è un personaggio fighissimo perché comunque Silvi quello sì Silvi tiene in piedi insomma parecchia roba in Loki sì ti credo sulla fiducia perché io non ho capito niente di quello che stavo facendo perché no credo di averlo detto ma lo ridico molto volentieri per farvi capire che non sono semplicemente tarda io in realtà c'è una per via degli accordi di riservatezza del rischio della fuga di informazioni eccetera noi doppiamo spesso su delle facce che si muovono su questi tondi che si spostano o a volte sulla bocca e basta o sugli occhi quindi non vedendo cosa succede tutto intorno io dico delle battute di cui non capisco un H TVA eccetera e poi vedo sta faccia che si muove quindi io mi chiedevo doppiandola che cosa sto facendo cioè poi come verrà fuori questa cosa quindi scusami se tu vedi il personaggio che cammina vedi sta palla non so se è all'aperto nelle scene in cui lei lavora al McDonald lei aveva si vedeva solo la faccia perché non si poteva vedere lei in uniforme del McDonald quindi c'è questa palla che si muove sulla faccia avevo si vedevo solo la faccia oppure lei con un rettangolo dal collo in giù un rettangolo nero anche quando aveva il costume perché non si poteva vedere il costume e quindi io cercavo con l'aiuto del direttore Metello Santuomo e anche dell'assistente di capire cosa dovessi fare però ero molto preoccupata perché dicevo ma non lo so come sarà uscita Silvia al buio meno male è uscita benissimo però cavolo doppiare Silvia al buio cioè ce l'hanno detto tanti tuoi colleghi di questa cosa però io ogni volta che la sento dico cavolo ma come è possibile e a volte non vedevamo niente schermo tutto nero ma va già firmi accordi riservatezza eh sì però che ti devo dire non lo so avevano tutti paura che facciamo le foto e che le mandiamo in giro o che diciamo in giro eh ho doppiato questo che era vestito in questo modo noi firmiamo questi andiei e ci impegniamo a rispettarli però non si fidano di noi lo stesso quindi non hai detto Dio che figo sto doppiando no dicevo no dicevo che sto facendo cos'è sta roba basta questo dicevo ok ma quindi ovviamente non sai dare neanche un giudizio all'attrice perché avendo visto così poco mi è sembrata per quel poco che ho visto mi è sembrata brava cioè ho cercato di seguirla il più possibile nei suoi cambi nella sua voce fonda io mi sentivo un po' leggera per lei quindi ho sempre cercato di usare il diaframma di stare più bassa possibile e ci sono stati dei colleghi che mi hanno detto ma eri tu ma sai ti ho riconosciuta dopo un po' ma che voce hai fatto quindi mi fa piacere essere riuscita a dare una sfumatura in più è vero è vero lei è molto più profonda sì perché la vedo grande poi vabbè non ha tanti anni in più rispetto a me l'attrice però ci sono delle inquadrature in cui sembra giovanile d'aspetto e altre in cui sembra minonna quindi chiedo scusa l'attrice e quindi ho avuto non lo so ho avuto dei momenti di cui dicevo ma io mi sento una bimba piccola perché devo doppiare lei vabbè ho fatto il provino sono stata scelta io e l'ho fatta cioè c'è poco da dire ovviamente sapendo questo tuo amore per la Marvel abbiamo detto perché non le facciamo questo regalo mi pare giù un monologone ma certo un monologo una lettura ma figurati su Sylvie ma certo con tanti termini come strani che hai detto te si mi sembra esatto cosette no vuoi dare un piccolo contesto no perché perché Loghi non si dice niente TVA non si sa bene dove e quando ok il contesto è questo su Lamentis mentre esplode complimenti ti è piaciuto breve conciso ma fa capire tutto mi ricordo di Asgard non molto ma ricordo casa mia la mia gente la mia vita l'universo aspira alla libertà perciò manifesta il caos come il fatto che io sia nata la dea dell'inganno e appena questo ha creato una deviazione abbastanza grande dalla sacra linea temporale la TVA si è presentata ha cancellato la mia realtà e mi ha imprigionata ero solo una bambina sono scappata ho rubato un tempad e sono scappata per molto molto tempo ed è stato uno schifo ovunque in qualunque epoca andassi causavo un evento nexus segnalando la mia presenza perché secondo loro non dovrei esistere finché alla fine ho scoperto dove nascondermi e perciò ecco dove sono cresciuta in migliaia di fini del mondo e ora è dove morirò credi che ciò che rende un Loki un Loki sia il fatto che siamo destinati a perdere? Bridi anche guarda però in questa lettura c'è tutto c'è la linea temporale le deviazioni i suoi la sua storia continuo a non capire niente di quello che sto dicendo destinati a perdere a perdere cavolo un Loki un Loki c'è tutto qua dentro c'è emozionato nonostante tu nonostante tu bene bene dai non hai capito niente il mio lavoro forse un pochino lo so fare un pochino un pochino proprio però non allarghiamoci c'è Spanchi che ti guarda come dire magari un giorno arrivassi come lei certo non ci credo sì sì è una capra invece no non è vero non è vero però bello dai noi abbiamo apprezzato tantissimo da fan marzo quanto siamo io ti vorrei far sentire una cosa sì e vorrei avere una tua opinione a riguardo certo gioco per vincere e vinco sempre sì non posso farci niente sono fatta così wow cioè senti che figata sono una stella una superstar adoro questa canzone è bellissima te la ricordi? qualcuno dovrà salvare il mondo e che questo sono qui strikereranno Mauro? eh? io sto ballando vedi come muovo la testa no dico ci strikereranno la mia diva di overwatch cosa mi hai tirato fuori tra l'altro tra l'altro ci tengo a sottolineare il fatto che ho i capelli di diva in questo momento perché lei ha la frangia da una parte solo che lei ha la divisa dall'altra parte rispetto a me e ha i capelli più o meno quindi è come se fossi ecco ho pure le cuffie sembro diva mi mancano le striature rosa qui sulle guance e sono praticamente diva è la quindi era sumo studio sono arrivata in cosplay da diva più o meno più o meno quasi quasi no sì me lo ricordo quel turno meraviglioso che i turni di diva di overwatch sono sempre un po' sono molto sporadici perché non è un gioco con tantissime linee dialogiche perché sono loro che combattono salvano delle cose e si ammazzano a vicenda però ci sono alcune espansioni diva dai il meglio di sé e mi ricordo che vabbè questo sì questa è una canzoncina anche tutto sommato innocua però mi è capitato anche di dover cantare in dubstep ma dai perché se tu interagisci con un microfono nella mappa di busan se non ricordo male diva canta e c'era io seguo sempre charlotte chung che è la bravissima doppiatrice di diva che è appunto la doppia in originale e e lei canta sento questa questa canzone in dubstep e e il fonico mi fa guarda è tipo skrillex e io ah va bene io qualche cosa di skrillex l'ho ascoltata e sento lei e io dito vabbè cerco di farla uguale ma era tipo pom 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 così e ho dovuto fare cioè cantava in quella tonina così così tipo partiva così e io ma proprio facendo questi versi e niente mi sono divertita come mi sono divertita a fare questa questa canzoncina che io ho una un blooper ho una registrazione di questo turno che perché ovviamente avevamo un testo a disposizione ma non era adattato splendidamente che novità e quindi ma non succede mai generalmente gli adattamenti sono fatti così bene soprattutto nei videogiochi ma va bene e quindi non ci tornava con la metrica quindi io cercavo di cantare sta canzone ma sentivo che non andava bene e quindi avevo iniziato a fare gioco per vincere e vinco sempre sì sono fatta così e poi finiva il testo quindi non sapevo più cosa dire quindi ho fatto wow bella zì e quindi ho questa ho questa cavolata che mi sono fatta mandare dal fonico poi io con il fonico e il direttore abbiamo adattato la parte che restava e poi ed è uscito quello che abbiamo sentito prima però ecco per dire grandi emozioni grandi emozioni grandi emozioni eh i videogiochi anche sui videogiochi lavori molto sono team Aloy sì sì ho lavorato molto beh ora un po' meno perché diciamo che l'ondata grossa di Forbidden West è passata anche quella di Cyberpunk che sono tutte esperienze che mi hanno fatto vedere la Madonna e tutti i Santi no perché sono state belle ma molto intense ecco provanti però mi hanno dato tanta soddisfazione e adesso capita ogni tanto qualche videogiochino sporadico e mole di lavoro proprio minima in paragonata a quelle di V e di Aloy niente proprio niente di paragonabile niente di paragonabile no certo però scusate ho vissuto in sala per non so quanti mesi per fare V e per fare Aloy sì 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 sono state lavorazioni molto molto lunghe ma è perché sono una capra ha fatto videogiochi quindi non immaginavo fossero così lunghe e i personaggi parlassero così tanto ma Aloy perché sono giochi sì perché sono giochi vabbè un open world nel caso di Forbidden West e Aloy parla molto più che nel primo gioco e quindi mille missioni un sacco di personaggi combattimenti ma ci ho messo sei mesi circa a doppiarlo quel gioco e Cyberpunk più o meno la stessa mole di battute però più dilazionate perché è stato più un lavoro di un anno un anno e qualcosa ok un anno un anno e qualcosa ma poi con tutte le scelte multiple lo sai quante cose sì appunto sì sì è giusto anche nel caso di Forbidden West c'erano delle scelte multiple quindi senti a me però non va bene che c'è il fonico il blooper e noi non possiamo vederlo qui dal view e sentirlo quindi lo ricreiamo noi come fai come famo ho qua il testo cos'è che devo fare qui c'ho qua il testo ti faccio partire la base sì e tu o segui il testo o dici quello che ti pare però ma che cosa trash è una cosa molto trash sì che cosa trash a noi spanchi piace il trash quindi guarda che bella senti come spinge sta base sì tantissimo è la sua cioè ci abbiamo messo un botto a trovarla sì non so neanche dove devo attaccare ragazzi dove vuoi dove vuoi tanto qua balliamo gioco per vincere e vinco sempre sì non posso farci niente sono fatta così wow lc spettacolare ora c'è la seconda strofa sono una stella una superstar adoro questa canzone è bellissima qualcuno dovrà salvare il mondo e per questo sono qui wow basta vi prego bravissima ragazzi ho quasi 40 anni per favore dai non posso fare queste cose è stato bellissimo guarda glielo facciamo un applauso grazie merita dai oh grazie grazie bellissimo sono spaziolo un momento dance bravo Mauro che gli hai messo questa cosa perché mi è piaciuta non la detti neanche a spanchi adesso facciamo tre giochi mi sto immaginando le facce dei miei amici quando ascolteranno questa puntata commentate amici in questo momento cosa diranno cosa penseranno dimmi scusami è una grandissima professionista è una grandissima grulla sono quello possono dire adesso facciamo tre giochi tutti in sequenza dai e ci sto quindi iniziamo col quizettoni di spanchi benissimo dove? non vedo l'ora di fare figuracce dimmi la difficoltà più grande è lei che riesce dai le faccio tutte diverse esatto sentiamo ah non la spieghi? la so io sono io so tutto però per chi ci segue diciamo che quattro frasi pronunciate dai tuoi personaggi dai tuoi personaggi tu devi indovinare chi lo dice c'è una difficoltà ulteriore cioè nel senso noi ti diamo tre opzioni però se vuoi e te la senti posso anche spararne una se la sai se la so vedremo non lo so mi sto rendendo conto che sto perdendo molti pezzi sul lavoro che tipo ah questa l'ho dubbata veramente vabbè io ho sentimenti buoni su di te sta a vedere se la sente se la sento benissimo prima frase dai stai insinuando che la mia vita non abbia un ordine? vuoi le opzioni? eh sì però proprio non mi ricordo ah tag stai insinuando che la mia vita non abbia un ordine esatto ripetimi le opzioni ah peg stai insinuando che la mia vita non abbia un ordine? la prima? e invece era la seconda era Gretchen ma chi se lo ricorda? Brittany non si ferma più l'ho doppiata una vita fa Brittany non si ferma più e niente e niente quindi non ci sarà non so Willow non c'è l'unplane io volevo fare l'unplane invece no non si può fare però puoi ancora vincere il record negativo sì quello di Emanuele Adamico no no ancora meno ancora zero sì giusto potrei essere io effettivamente proviamo io lo amavo mamma a Filippa Bridgerton b Luisa Filippa eh Filippa Filippa presa subito Filippa esatto la grandissima Pippa eh volevo dire bene ok una l'ho presa dai sono a livello di Emanuele Adamico adesso sei a braccetto con lei però perfetto ci sarà secondo me la voglio arrivare almeno a coltorti però scusami questa praticamente l'ha detta subito no senza eh se anche le altre le dice senza opzioni ci sarà tre e lode eh beh non sopravvalutate però per te a me piacerebbe sapere che c'è qualcuno che si preoccupa per me A Ashley 16 anni incinta stagione 2 B Tigris Show Hunger Games la ballata Tigris lei Tigris bene Tigris sì vabbè comunque la pronuncia è sbagliata bisognerebbe dire Tigris però è stato sempre detto Tigris e quindi Tigris Tigris è giusta ci ho preso? sì bravissima anche qui non l'aveva sei stata troppo specifica perché è stagione 2 cioè 16 anni incinta ma era della della risposta sbagliata quella precisazione era la risposta sbagliata no va bene era anche quella diciamo incinta ok l'ultima comunque è una grandissima dai almeno due l'ho beccata dai se fai la terza questa la sa secondo me no stavo già facendo la frase è la frase beh basta no mi interrompe vabbè la leggo e basta beh la metanfetamina è un casino le vuoi? sì allora A Ashley mio padre è un sicario B Daisy Skins USA C Padgett Padgett io ormai la mente deviata come sento metanfetamina la metanfetamina pensa a Breaking Bad la metanfetamina è un casino la metanfetamina è un casino ripetimi le opzioni Ashley mio padre è un sicario il prodotto Daisy Skins USA il prodotto Padgett he's all that la metanfetamina è un casino aspettavo in gloria la musica tensiva B o C la metanfetamina è un casino provo a dire Daisy Daisy e Daisy no no sono a livello col Torti Biagini dai va bene va bene 50 dai dai io me la prenderei chi era scusa l'ultima era Padgett is all that eh proprio non me la ricordo non me la ricordavo anzi avrei sbagliato apposta per stare con Emiliano ah vabbè questa la vediamo in questo modo vabbè dai vedi la così beh vabbè dai a bozzi o a canni ci sono tre quattro anzi situazioni dove in ogni situazione ci è un ipotetico pro ci è un ipotetico pro è un ipotetico contro adesso ti parlo tutto il tempo così per date pastelle e quindi tu devi dirci inserita in quei contesti come ti comporteresti se si a bozzi proprio e quindi te la fanno bene o a canni quindi assolutamente no allora Quentin Tarantino ti vuole tra le attrici non protagoniste del suo nuovo attesissimo film tuttavia è prevista una scena dove il tuo personaggio in pieno stile Tom Cruise dovrà lanciarsi con una moto da una montagna in caduta libera per oltre 1500 metri il tutto rigorosamente senza l'utilizzo di controfigure quindi la facciamo questa cosa per Quentin Tarantino o no ma perché Quentin Tarantino dovrebbe volere me innanzitutto tutte le attrici che ci sono ti vuole assolutamente poi soprattutto vuole che io mi lanci certo proprio stile Tom Cruise ha immaginato te quando ha scritto questo film vabbè che fai? come dovrei lanciarmi in moto? allora la scena è questa proprio pensa a Mission Impossible tu alla Tom Cruise con questa moto vai 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 rampa burrone quindi caduta libera la moto va da una parte tu precipiti dall'altra e poi raso raso questa scarpata della montagna poi di colpo si apre il paracolo allora io ringrazio il signor Quentin per la proposta però io accanno ma sì perché io sono una fifona io non ho mai preso un aereo in vita mia per dirvene una e mi fanno paura le moto e la prospettiva io farei bungee jumping avrei voglia di testarmi probabilmente morirei anche sul colpo perché non so ho paura ma ecco no cioè con tutto il bene ma no io tengo alla mia incolumità e so che morirei di infarto prima ancora di provarci quindi io ringrazio il signor Quentin gli mando una crostata che è quella che fa mia mamma è buonissima e alcuni miei amici possono confermarlo perché le ho portate e quindi gli mando una crostata con scritto scusa Quentin tvb lo stesso scusa Quentin tvb vabbè io fossi Quentin io accanno perché sono una fifona hai cara la vita ho cara la vita e non ho abbastanza caro Quentin con tutto il bene per Quentin però ecco fa una piega lo so lo so anche io sono fifone però cavolo è sempre Quentin io anche se non c'è Quentin qualcuno che me lo organizza vado vai ok vinci il provino su un'attrice molto famosa che è sempre stata doppiata da una tua carissima amica collega il direttore di quel film però non considera la sua voce adatta per quel ruolo e ti offre il lavoro per la stessa cifra vabbè allora se me lo offre per la stessa cifra e non è una questione di concorrenza sleale del tipo che lei ha chiesto una cifra non gliel'hanno accordata e chiedono me perché avanzano le seconde linee come si suol dire allora sì in quel caso ovviamente darei un colpo di telefono alla mia amica le direi guarda è successa questa cosa te lo volevo dire e lei cioè ne parliamo ma se è una cosa se io costo 10 e lei costa 10 e vengo scelta io perché dovrei rifiutare comunque per correttezza io per correttezza quello a prescindere quello a prescindere ok perché no magari immagino no un attrice che ha avuto veramente sempre sempre lei mettiamo non so dato che ci ha detto che sei molto amica di Benedetta sì Benedetta su Lady Gaga esatto magari la chiama e ti dice guarda no è la stessa cifra ok però a me mi roderebbe tantissimo però se non cede è un'altra però ecco appunto visto che abbiamo fatto l'esempio specifico se succedesse io probabilmente rifiuterei in questo caso perché si tratta di una mia carissima amica e di un'attrice a cui lei tiene tantissimo mi direbbe sicuramente che appunto le roderebbe il culo e quindi la lascerei fare a qualcun altro però però diciamo in situazione ipotetica dove l'amica è cara ma non così cara il personaggio non è così legato ovviamente sì io lo direi per correttezza chiamerei la collega e direi guarda è successa questa cosa ti risulta che sono stata chiamata per questo motivo e non per un altro mi è capitato comunque di essere chiamata a sostituire una collega per una produzione già avviata e io ho chiamato l'altra collega dicendo ma scusa ma mi hanno detto che tu non puoi più fare questa cosa ti risulta e quindi ci siamo chiarite così però ecco la comunicazione è importante questo è importante anche per correttezza per trasparenza ok un guru del marketing decide di svolgere i suoi servizi a social media manager come si chiamano adesso SMM gratuitamente a patto di avere pieno controllo sui contenuti i tuoi profili cresceranno moltissimo con video e foto molto trash tuttavia che potrebbero avere ripercussioni anche sulla tua carriera professionale quindi un milione di follower vale insomma il contenuto trash che potrebbe andare a inficiare la tua carriera no ma assolutamente no 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 a canni di brutto ma sì ma a canno di brutto ma se poi deve andare a inficiare la mia carriera no non me ne fregherebbe niente di avere milioni di follower se poi non posso più fare il mio lavoro e poi foto trash foto video trash come mi sto chiedendo i balletti di tiktok ah vabbè ma quelli mi piacerebbe farne alcuni perché alcuni trend non sono proprio malvagi è solo che va bene mi è venuto in mente sì sì però per dire ecco vorrei essere io l'artefice del trash del mio profilo io e nessun altro io e nessun altro esatto gli altri non possono impormi il loro trash perché il trash deve essere una cosa che diverte me per prima perché se io sono la prima che ci proprio ci si ammazza da ridere allora posso anche proporlo al pubblico il trash è personale il trash è personale sì sì va saputo affrontare ecco no no quindi a canno felicemente ok ultimati offrono diverse lavorazioni importanti che ti lanciano verso una brillante carriera nella direzione di doppiaggio a discapito però del ruolo di attrice e doppiatrice che diminuiranno esponenzialmente fino ad azzerarsi quindi una brillantissima esplosiva luminosa carriera in direzione di doppiaggio vale il rinunciare a canno no cioè a me non dispiacerebbe un giorno cimentarmi nella direzione ma di anime solo quello vorrei dirigere sinceramente perché è l'unico prodotto su cui mi sento un minimo ferrata sugli umani ancora non ci capisco niente adesso perché sento che mi mancano tante cose e quindi non avrei l'ardire di propormi voglio dirigere una serie di umani un film assolutamente no lo lascio fare ad altri che ce ne sono direttori ben competenti molto molto più di me ma agli anime non mi dispiacerebbe provare a dirigerne uno ma in futuro non adesso non mi sento pronta neanche per quello adesso e poi soprattutto se mi lanciassi in una carriera sfolgorante da direttrice ma questo mi provocasse anche una diminuzione drastica del mio lavoro da attrice allora no perché io comunque voglio fare doppiaggio come attrice e quindi no a canno a canno vedi quanti a canno ha fatto bene ti piace? ti piace la spazio? abbiamo rispolverato per te la prova di improvvisazione oh che bello io sono una pippa nelle improvvisazioni prova di improvvisazione speravo che non me la faceste fare e invece sì l'abbiamo rispolverata apposta per te basta che mi diate manforte non mi lasciate sola nell'improvvisazione è uguale è uguale non mi lasciate sola allora la situazione è molto particolare anche molto attuale perché comunque può capitare ed è uno dei contesti dove litighi di più con la persona preposta e con gli altri che è la riunione di condominio oh bellissimo quindi Martina amministra condomini a Roma io sono l'amministratrice da poco tempo e deve affrontare la sua prima e temuta riunione condominiale durante l'assemblea deve fare i conti con me ne spanchi due condomini molto pignoli per non definirli in altro modo che la riempiranno di domande scomode con l'obiettivo di metterla in cattiva luce con gli altri proprietari partecipanti speravo di fare la condomina che litiga io non sono brava a sedare le liti comunque va bene a litigare invece proviamo a litigare sì perché posso attingere dalla mia esperienza di vita che è bella nutrita sotto questo punto di vista perché ho convissuto con dei cafoni delle cafone e anche dei cafoni ultimamente perché vivo da sola adesso da un anno e mezzo anzi un anno e mezzo ma accanto diciamo al mio appartamento c'è l'appartamento di un tizio che a volte è un po' rumoroso quindi sì diciamo che avrei potuto attingere invece non mi permetti di esprimermi esprimere il mio astio nei confronti dell'umanità comunque va bene dai proviamo vabbè non è detto che il come si chiama aiutami il suo ruolo l'amministratrice di condominio l'amministratrice non sia aggressiva vediamo dai vediamo partiamo io vorrei sapere perché devo pagare l'ascensore quando faccio tutti i santi giorni le scale per allenamento ma lei a che piano sta signora? al secondo al secondo? sì lo so ma lo pagano tutti i condomini l'ascensore ma io non ne usufruisco eh lo so signora che cosa le devo dire? lei lo paga l'ascensore? io sì a casa sua? certo e in questa casa lo paga? in questa casa in questo stabile lo paga? ma è mio lo stabile non lo usa non lo paga perché non lo usa perché io devo pagarlo se non lo uso come quanto lei scusi ma allora che pretende? vuole cambiare cioè se ne vada vada da un'altra parte io non lascio la mia casa qua si sta non si sta ponendo la 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 questione centrale su cosa? io ho pagato cinque rate condominali e lei mi ha messo qua che sono amoroso dove hanno dove sono finiti i miei soldi? nell'ascensore ma scusi quando le ha pagate queste rate? mi fanno capire io ho tutte le ricevute me le ha inoltrate? certo la sua assistente a tutto ma io lo so perché dove state in vacanza quest'anno? a Formentera vede 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 ecco dove vanno i nostri soldi questa nusanza tutta italiana perché io pago il condominio e poi i miei soldi vanno a Formentera lei è poco trasparente e risulta che non si paga il condominio esatto ma non può permettersi di accusarmi di rubare i soldi dei condomini ma come si non può permettersi io ho mio fratello che è avvocato mi mangia la casa ha visto le carte ha detto che ci sono illeciti no senta no questa cosa non l'accento senta è poco trasparente ma è lei scritta un'associazione? no vede neanche l'associazione ma chi l'ha dotata a lei? io vorrei sapere ma scusi ma che domande sono? no senta allora mi mandi cortesemente tutte le ricevute via PEC di nuovo? sì certo perché non mi è arrivato niente quindi lei non ha pagato le ha fatte sparire come no? no non le ho fatte sparire non mi è arrivato niente perché lei non ha pagato quindi mi rimanda tutto e poi valutiamo io glielo mando e poi aspetto le sue scuse e poi magari l'anno prossimo viene a Formentera con me va bene bello bello mi piace Formentera e Spanchi rimane inculata sull'ascensore io continuo a non pagare d'altro poi te li chiedono a te i soldi guarda qui abbiamo trovato una coppia che andrà a vacanza a Formentera con i tuoi soldi Spanchi e quelli degli altri condomini quindi bello mi piace ecco come amministratrice però c'hai polso è la forza della disperazione in realtà ti abbiamo detto non hai pagato non è vero non ho niente che c'hanno studiato posti comunque voi ammazza mi è arrivato nulla bevissima bevissima è stata brava dai siamo stati molto brava cioè avessimo detto una cosa del genere a una vera amministratrice saremmo stati in causa sì probabilmente sì mi faccia controllare e otto ore così va bene non dirò che ho preso ispirazione dal mio amministratore non è vero non lo dico te la taglio era classico normale era chiaro c'era Benigni nel film che faceva che dava la colpa all'amministratore che era il piccolo diavolo comunque uno di quei film dove lui dice io mi propongo come nuovo amministratore tutti lo vogliono c'è Pier che dice l'amministratore si intascava i soldi bello che bel momento però adesso andrà a parlare di un prodotto seguitissimo all'epoca che è Diario di una nerd superstata il mio cuore il mio cuore è rimasto lì che bel prodotto che bella interpretazione figo lo vedevi volentieri anche attuale cioè nel senso innovativo per l'epoca è invecchiato bene poi che ne pensi di questo personaggio? Genna è stata la mia primissima protagonista di una serie lunga che abbia mai vinto e correva l'anno 2011 credo e io lavoravo a Milano avevo iniziato da un annetto due anni scarsi e c'era l'allora funzionaria di MTV che amava fare i cast misti quindi mandava alcuni di noi doppiatori acerbi di Milano che comunque avevano iniziato a Milano a Roma in trasferta a fare dei provini su parte perché all'epoca MTV aveva anche delle serie molto carine e mi hanno chiamato a fare questo provino per la sedif nello stabilimento dove adesso c'è solo la cast doppiaggio però all'epoca c'erano sedif e cast insieme e io totalmente ignala tipo la bimbetta in gita arrivo e trovo Chiara Colizzi in direzione la cliente lì accanto con lei e quindi e Chiara mi racconta mi spiega la scena era l'anello appunto l'anello che avrei dovuto doppiare per il provino era l'incontro il primo incontro sessuale tra Jenna e Metti proprio nel primo episodio prima scena e poi un'altra scena dopo non mi ricordo e io mi sono cimentata in questa cosa e mi ricordo che sì è stato ero emozionatissima Chiara è stata di una gentilezza estrema sempre lei è molto disponibile molto carina io però ho fatto questo provino pensando ma figurati tanto se lo vincono è già impossibile anche perché ho pensato oltre a me a fare il provino su questa attrice che oltretutto Ashley Rickards che è l'attrice che ha fatto Jenna aveva già doppiato American Horror Story mi sembra era già stata doppiata da Letizia Ciampa se non erro quindi anche Letizia Ciampa aveva fatto il provino e anche altre professioniste quindi ho detto ma figurati io l'ultima scema che arriva da Milano con un anno scarso di esperienza poi faccio sto provino ringrazio tutti me ne vado poi tempo non lo so qualche giorno mi ricordo ero a casa mia in Toscana mi suona il telefono rispondo e era l'allora segretaria della SEDIF Elisa che purtroppo è andata in pensione da diversi anni non lavora più però io ho ottimi ricordi di Elisa perché era fantastica e rispondo pronto ciao Martina senti ma tu avevi fatto il provino per la serie con Chiara Golizzi vero? e l'hai vinto oddio ho avuto un momento in cui ho avuto veramente non lo so mi sono messa a piangere e lei ha detto sei contenta io sì certo che sono contenta oddio certo e allora poi ha iniziato periodicamente a darmi turni perché arrivavano le puntate le batch di episodi e quindi ne lavoravamo che ne so cinque sei per volta ora non mi ricordo bene quindi scendevo una settimana per volta e mi facevo organizzare i turni in quella settimana lì poi non lavorando tantissimo perché appunto avevo iniziato da poco tempo avevo anche abbastanza disponibilità quindi dicevo guarda Elisa ti do tutta questa settimana cerca di accorpo se possibile se mi accorpi i turni così almeno posso tornare un giorno prima a casa però per il resto stavo tutta la settimana a Roma mi divertivo poi con Chiara che mi ha insegnato tanto Chiara Colizzi è stata purtroppo mi ha seguita solo per le prime due stagioni perché poi lei ha dovuto lasciare la direzione per un problema di salute e poi per le ultime tre stagioni terza, quarta e quinta è subentrato Davide Lepore che aveva curato gli adattamenti della serie quindi lui sapeva già la storia ciao Davide e conosceva la storia quindi è stata una bella palestra anche lui in un altro senso però sì è stata una bella palestra ma è stata una bellissima esperienza perché la serie è molto carina è simpatica poi vabbè c'è l'effetto beautiful perché col passare delle stagioni Jenna cioè parte tutto con Matti poi c'è il filarino con Jake poi ne arrivano altri si è allungato un po' troppo il brodo perché comunque la serie aveva avuto presa aveva presa sui ragazzi era piaciuta tanto solo che poi si è un po' banalizzata secondo me perché Jenna hanno allungato il brodo sì come spesso come succede spesso perché a parte il colpo di scena della lettera di sconfronto della prima stagione e poi dopo c'è stato insomma vari altri ragazzi che si sono avvicendati nel letto con Jenna e è diventata lei è diventata un po' un po' leggera diciamo un po' troppo però comunque è stata è una delle poche lavorazioni che mi sono veramente goduta che mi mancano tuttora cioè io arrivasse un'altra stagione di awkward o un film di awkward sarei felicissima ma non succederà mai e anche perché non erano non c'era ancora stata l'avvento delle colonne separate quindi io facevo i turni con i miei colleghi mi ricordo i turni con mamma e papà cioè Alessio Cigliano e Selvaggia Quattrini quanto ridevo perché Alessio Cigliano ha questa risata contagiosissima ma lui ride per qualsiasi cosa e te l'attacca quindi ridi anche te e Selvaggia fantastica e poi con le migliori amiche con Tamara e Ming che erano Joy Saltarelli e Melissa Maccari e anche con Joy mi sono divertita e con Mela ci siamo divertite tanto e poi con i fidanzatini mi è capitato il turno con Daniele Giuliani che faceva Jake e quelli con Paolo Vivio che vabbè Paolo è una forza della natura io ho riso a tutti i turni con Paolo Vivio tutti 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 infatti dentro di me ho sempre sperato che Jenna alla fine scegliesse Metti perché io adoravo Metti perché di riflesso adoravo Paolo ci sta ci sta ok quindi noi abbiamo preparato proprio una lettura su questo prodotto perché insomma era un peccato non inserirlo anche poi era un qualcosa che vedevi vivo molto volentieri perché quel periodo MTV ha sfornato belle perle sì c'era anche Teen Wolf nello stesso periodo bellissimo anche Teen Wolf ho fatto il rewatch recentemente c'è un 35 io seguivo anche Pez se non ti dico Trevor Emish bellissimo Pez bellissimo un mio cagnolino che ormai era molto vecchio non c'è più l'ho chiamato Trevor in onore di Pez è bellissimo Trevor Emish ma poi il video della canzone di Frankie High Energy è bellissimo Rap Lamento che è l'anagramma di Parlamento è bellissimo secondo me quello è un prodotto che non conosce purtroppo attualmente nessuno e dovrebbero sì Pez dovrebbero riscoprirlo perché era bellissimo perché era talmente dissagrante e riverente per l'epoca forse adesso però non sarebbe recepito nella maniera giusta perché ora non si può più dire niente ora si offendono tutti non si possono più fare battute di un certo tipo perché se no si alzano tutti e come ti sei permesso di dire questa cosa cioè adesso siamo tutti abbiamo tutti le ali molto tarpate quindi non c'è più una grandissima libertà di espressione io non la vedo più sinceramente poi vabbè parlo io che sono toscana sono cinica faccio cioè i toscani fanno da sempre body shaming sono stronzi sono cinici dicono parolacce e quindi io non posso esprimermi in totale libertà perché verrei censurata e verrei tacciata di essere di odiare la gente di fare di essere che ne so razzista invece no sono solo battute goliardiche però nessuno ormai le recepisce più come dovrebbe secondo me ok no sono d'accordo su questa affermazione però quel prodotto a me piacendo quel tipo di comicità l'ho apprezzato tanto qualcosa su youtube si trova ancora cercatelo pezzo perché sono carino molto carino molto figo spanchi non sa neanche di cosa stiamo parlando vergognati e quindi adesso abbiamo genna wow e tra l'altro questa è la scena del provino è proprio la scena del provino sì perché è proprio la scena in cui si apre tutto e una delle due scene che ho fatto per il provino questa e poi un'altra non mi ricordo comunque questa sì vedi che casualità che bello e adesso e torniamo indietro nel tempo indietro nel tempo di sì alla fine 13 anni madonna 13 anni che bel momento emozionante che quanta anzianità soprattutto mia mia che deve dire spanchi poverina in questo momento la frangia che mi sta un po' andando a donne di facili costumi somiglia un po' alla frangia che ha Genna per quasi tutta la serie perché anche a lei va un po' così non riesco a tenerla insieme comunque mi sento anche molto Genna in questo momento per 15 anni ho fantasticato all'idea di fare il mio ingresso alle superiori ed essere notata da tutti come mi sarei dovuta vestire mi avrebbero venerata sarei stata più alta e con delle tette da porno star ma no non era quella la realtà il mio momento di gloria nella realtà faceva schifo e come in ogni horror che si rispetti il mio incubo era iniziato al campo estivo ero a una banale festa pomeridiana ma c'era una strana magia nell'aria mentre i secchioni erano su di giri il resto di noi pensava a ubriacarsi per la prima volta da quando avevo tolto l'apparecchio non mi stavo sentendo invisibile e quella era la conferma Metti mi aveva fatto l'occhiolino speravo facesse qualcosa di più eccitante che odorarsi le ascelle ma per Metti era normale farlo lo faceva spesso la cura dell'igiene personale era solo uno dei suoi molti molti punti a favore praticamente era perfetto non come me io ero un vero fascio di nervi perché Metti McKibben voleva me e nessun'altra nel ripostiglio degli attrezzi non era una di quelle storie strappalacrime da talk show su come io sia rimasta incinta l'ultimo giorno di campo estivo conoscevo i rischi del sesso non protetto i nostri rapporti sessuali appassionati erano un segno quest'anno sarebbe stato il mio anno niente più sguardi dall'alto in basso non commetti nella mia il cambiamento era nell'aria ne sentivo l'odore era un misto di cambiamento e profumo di pino confessare la mia verginità avrebbe rovinato tutto che bel salto nel tempo si si poi tra l'altro mentre leggevo profumo di pino mi sono ricordata dell'indicazione che mi aveva dato chiara perché ho detto no guarda quella staccala un po' di più fa la tipo cambiamento profumo di pino come se lo sentissi in quel momento allora mi è tornata in mente chiara quindi si è stato bello questo tuffo nel passato grazie grazie a te è stato bello anche per noi da fruttori quindi immagino anche per te ricordando quei momenti di un'esperienza così bella così come ci hai raccontato ma te sei stata in matrix sì 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 un'altra saga della mia infanzia no quella l'ho vista anche se non ci ho mai capito niente lo stesso no poi vabbè l'ho vista tanti anni in matrix devo rivederli i film perché li ho visti che ero troppo piccola ero una ragazzina però quando poi è uscito il quarto alla fine era il quarto e Carlo Cosolo mi ha chiamata inaspettatamente a fare prima il trailer e ho detto tra l'altro sembrava che io non riuscissi a farlo perché mi avevano chiesto la disponibilità per quel trailer io non potevo e allora dallo studio avevano detto va bene dai sarà per la prossima poi scusami Carlo ha chiesto proprio di te possiamo trovare un altro va bene ma chissà cos'è arrivo e trovo matrix mi aveva detto che vabbè c'era un nome in codice ovviamente perché non si poteva dire niente sempre quella questione qual era il nome in codice oddio qual era era tipo rabbit qualcosa non lo adoro beh perché seguiva il coniglio nel primo la tana del bianconiglio non mi ricordo ma forse mi sbaglio comunque c'era un nome che non c'entrava assolutamente niente beh lo pensi tu e io ho fatto ho fatto questo trailer ho detto madonna poi sì quell'attrice Jessica Henwick l'ho doppiata lì per la prima volta poi l'ho ridoppiata anche in altri film e l'esordio è stato è stato con Carlo poi quando ho fatto matrix ero tesissima c'era Benedetta che mi tranquillizzava e mi diceva pensa che tutto quello che tu fai che tu farai lo potrai fare solamente tu e nessun'altra nel bene e nel male se ti hanno chiamato vuol dire che c'è bisogno di te c'è bisogno di Martina con tutti i pro e i contro quindi quello che puoi fare tu non posso farlo io non può farlo Tizia non può farlo Caia quindi fai tutto quello che devi fare affidati alla cura di Carlo che comunque è un ottimo professionista e ti saprà indirizzare nella maniera corretta e goditela perché alla fine sarà un bellissimo viaggio e così è stato ho fatto il film e mi ha fatto Carlo è rimasto contento anche il fonico con cui non avevo ancora lavorato non avevo mai fatto un film di quella portata è stata sì una bellissima esperienza cavolo se ripenso a Matrix a quello che ha significato la trilogia originaria essere all'interno di un prodotto del genere tra l'altro prima del turno mio di uno dei penso in tutto di aver fatto non so se due o tre turni alla fine non avevo tantissime righe però prima di me c'era Luca Ward ovviamente l'ho visto uscire dalla sala bello tranquillo così e io ero tesissima perché ho detto ora devo entrare io devo fare del mio meglio devo essere all'altezza lui proprio per lui ormai è una passeggiata di salute qualunque cosa lui si è chiamato a doppiare la affronta proprio con la spensieratezza che vorrei tanto avere io e non so se avrò mai perché io vivo mangiata dall'ansia giorno dopo giorno eh ma probabilmente questi risultati ottimi strabilianti eccellenti che ci porti sono dovuti anche a quella quindi lasciamo tutto così io sono della scuola Sanremo dell'87 qui quale canzone aveva vinto Sanremo dell'87 oddio 87 aspetta 87 è periodo ora ve lo faccio il quizzettone è periodo tipo Aleandro Baldi sì ma non era lui devi pensare al titolo della canzone no no però siamo in quella fascia Minghi Baldi Zarrillo Vallesi no no dobbiamo trovare una canzone che sia inerente all'argomento ansia e cose del genere no qualcosa inerente a quando tu hai detto le tue performance sì io sono della scuola si può dare di più ah sì sempre sempre quindi io non sarò mai contenta di quello che farò io tutte le volte che mi riascolto dico no perché io già potevo fare meglio noi siamo contenti nell'87 ha vinto la canzone sì il nostro anno pensate sfigati che siamo siamo dati nell'anno in cui si poteva dare di più nell'anno si può dare di più Chernobyl bellissimo e ora mi spiego tante cose saranno arrivate delle radiazioni probabilmente a giustificare la mia grullaggine però vabbè è un anno un anno fichissimo io continuo a dire che l'87 è uno degli anni più belli in assoluto anche perché noi abbiamo avuto pure la grande fortuna di viverci la saga di Harry Potter nel tempo giusto perché siamo cresciuti con Harry l'87 no ma l'87 diciamo anni 80 sì non proprio dall'80 no fino agli anni 89 però ecco adesso che i bimbi se la ritrovano tutta scodellata la saga e non hanno più il piacere della scoperta e sanno subito che finiscono noi con l'accordo con Cine comunque però noi l'abbiamo scoperto passo passo poi non so magari te Harry Potter fa schifo ho guardato al cinema cioè nel senso non è un prodotto per cui stravedo ma l'ho guardato l'ho seguito passo passo come hai detto te noi i libri non ci sono arrivati no ma tendo sempre a evitarli i libri perché sono una persona a cui non piace eccessivamente la lettura ah vabbè ci sta quindi non è per Harry Potter è proprio in generale in generale perché i libri sono molto più belli sì ho capito sì quello sì perché ora vediamo questa serie quando esce voglio proprio vedere già i prodromi non sono dei migliori perché possono si prenderanno tipo la libertà di cambiare personaggi fare queer di là per questo per questo politica che ci ha rotto le palle lo possiamo dire diciamola ad alta voce diciamola ad alta voce almeno non c'è il monopolio sul cast cioè non devono essere per forza inglesi e tutta quella roba che è stata messa su tutti i film come regola e che anche quella però era un po' passata in sordina ma anche quella è una bella restrizione che lei ha voluto tutti i mesi tutti british ormai è andata così ormai è andata così bella soddisfazione comunque dire sentirsi dire no Carlo ha chiesto proprio te perché conoscendo Carlo Carlo aveva pensato me si vede su di lei e ha detto no no io voglio lei chiamatela ce lo vedo Carlo che dice e meno male ha insistito meno male perché altrimenti non l'avrei non l'avrei fatto perché siamo tanti e nessuno è indispensabile niente quindi se non puoi te può qualcun altro questa è la triste regola ma parliamo un attimo di Zelda sì un prodottone Zelda un prodottone un prodottone altro prodotto di cui so tantissimo come immaginerai la principessa ma guarda io sono una compagnia perché fino a poco tempo fa pensavo che Zelda fosse Link no ma lo sai che da piccina lo pensavo anche da piccina perché vedevo The Legend of Zelda e vedevo e vedevo sto ragazzino che deve salvare ma se tu chiami un gioco Super Mario e metti il baffo io penso che quello sia Super Mario cioè Sonic e metti Sonic se tu a Zelda ogni figura di Zelda mi metti Link io penso che Zelda sia Link cioè me non giocatore sì sì capisco sono cascata anch'io in questo tranello non mi vergogna a dire fino a un anno fa pensavo fino a un anno fa un anno fa allora no in questo caso diciamo due in questo caso shame on you shame on you esatto me le prendo tutte pensavo che Zelda fosse Link però in questo modo invece no la principessa è un po' tipo Peach diciamo Zelda sì ora io non conoscendo nell'una nell'altra saga perché non ho mai giocato a niente né dell'uno né dell'altro però sì il personaggio intorno a cui ruota tutto alla fine e io mi sono ritrovata a doppiarla inconsapevolmente perché manco sapevo per quanto ci sto dietro perché appunto non ho mai avuto occasione di giocare non c'è stato nessuno in famiglia che mi abbia iniziato perché tanti hanno iniziato a giocare a Zelda perché magari ci giocava un fratello la mamma eccetera e io no non c'era questa questa passione in casa e io sono l'ultima di quattro figli e niente nemmeno i miei fratelli il mio fratello e le mie sorelle penso conoscano Zelda no non ci hanno mai giocato e non sapevo appunto che dovesse uscire Breath of the Wild e che fosse previsto il doppiaggio non lo sapevo sono stata chiamata da uno studio a fare il provino e mi sono ritrovata a leggere delle linee di dialogo guardando solo un'immagine stilizzata di un personaggino proprio in pixel art che non si distinguevano neanche tra un po' i contorni e i personaggi per cui ho fatto il provino che erano un paio no tre avevano tutti un nome fittizio perché appunto non si poteva sapere che Zelda sarebbe stato doppiato e quindi ho fatto il provino su questa fantomatica principessa Ella poi su sto personaggio con la testa a forma di pesce e su un altro personaggio che sembrava tipo un leone poi passa e non mi pongo particolari domande seguo le indicazioni del direttore sento non mi ricordo neanche se c'era una traccia guida forse sì e poi il tempo non lo so qualche settimana mi chiamano e mi dico guarda hai vinto il provino su uno dei tre personaggi sulla principessa dico va bene mi danno il turno mi presento in studio mi dicono bene allora tu sei Zelda e io come perché io non conoscendo pur non conoscendo niente di questa saga videoludica io sapevo che Zelda era un personaggio importantissimo amatissimo e quindi ho avuto un momento di morte interiore perché ho detto oh mio dio ma sarò in grado di fare questa cosa e poi per fortuna mi sono affidata al direttore ho ascoltato molto bene ho cercato almeno di seguire quello che faceva la Seyu la doppiatrice giapponese e è stata una bella esperienza e poi quando sono uscita di lì la prima cosa che ho fatto anche se non avrei dovuto è stato scrivere a Flavia Quilone perché lui è un grandissimo fan di Zelda e sapevo che avrebbe apprezzato infatti lui ha detto lui è entusiasta al massimo mi fa guarda per me sarebbe il ruolo di una vita mi ha detto e pensa che tu sarai la primissima voce italiana perché i giochi di Zelda non sono mai stati doppiati ma soprattutto Zelda non parla eh sì soprattutto Zelda non parla non ha mai parlato quasi mai e a parte quella trescissima e fantastica parentesi della serie animata di Zelda quel troiaio in mane fatto quel cartone dove sono tutti brutti quello che origina il meme well excuse me princess quello lì che era dove dove Link che era un allupato perennemente ingrifato che cerca di insomma di accalappiarsi Zelda lo faceva il mio adorato Diego Sabre che non è morto però ha smesso di lavorare da tanti anni e mi manca tantissimo è una delle voci con cui sono cresciuta e la principessa Zelda la faceva la doppiava Veronica Pivetti quindi io sono arrivata dopo Veronica Pivetti però non era il videogioco no è l'unica del videogioco per ora sì poi vedremo in futuro perché appunto niente è per sempre però almeno per Breath of the Wild e Tears of the Kingdom e anche i rule warriors l'era della calamità sono io ecco e questo comunque è una cosa di cui vado molto fiera prima non parlavo sei tu basta quindi sei solo tu e quindi come ultima lettura gliel'hai messa madonna non potevamo non mettere Zelda perfetto oddio però adesso che ci penso gli ho messo le parti di Link non è l'intero vabbè quelle praticamente ah perché è un personaggio muto diciamo che non ha compagnia durante il viaggio quindi magari si fa i monologhi interiori non è che i monologhi può darsi che sia molto riflessivo molto interiori molto interiori esatto molto interiori The Legend of Zelda quindi io sto leggendo è un mix di cutscene da Tears of the Kingdom quindi dove ci spiegano l'origine adesso vi vedo proprio questa così del regno di come si pronuncia ecco siamo nel cul de sac allora la pronuncia ufficiale è i rule perché è stata decisa da Nintendo non è colpa mia però tanti fan non la accettano perché dicono anche giustamente non mi sento di dar loro torto che si debba dire Hyrule Hyrule quindi però c'è Hyrule Warriors che tutti dicono Hyrule Hyrule io nel gioco ho detto Hyrule quindi adesso non me ne vogliate ma dirò Hyrule esatto la facciamo così come era nel gioco diciamo che la pronuncia poi quella posso fare la doppia versione come in un turno di doppiaggio ogni turno di doppiaggio si rispetta guarda facciamo la seconda versione lo faccio così faccio contenti anche i fan che rifiutano Hyrule se Hyrule Hyrule ci devono stare se Nintendo si è pronunciata zitti e pippa scusatemi non è colpa nostra ragazzi che vi posso dire se Nintendo dice così loro creano il gioco potrebbero anche dire non è Zelda ma è Zelda o è Zilda o Zilda Zilda mi ucciderebbe Zilda eccomi Link sono qui stai bene ma questi murali i libri di storia della famiglia reale parlano di una guerra combattuta tanto tempo fa tra un'alleanza di popoli e il re dei demoni le sorti del nostro mondo erano appese a un filo sottilissimo se così fosse questi murali potrebbero raffigurare proprio quella guerra guarda questa immagine assomiglia alle statue che abbiamo visto prima è uno Zonau e questi somigliano proprio a noi Ilia gli Zonau sembrano davvero un popolo disceso dal cielo secondo la leggenda la famiglia reale di Hyrule di Hyrule proviene da una stirpe divina che è discesa dal cielo fino al nostro mondo se questi murali sono attendibili allora questi dai scesi dai cieli erano gli Zonau sono venuti a contatto con gli Ilia di allora e dalla relazione tra quei due popoli è nato il regno di Hyrule o di Hyrule ma a un certo punto è apparso un individuo malvagio che ha sottratto al regno un grande potere incredibile coincide perfettamente con i libri di storia poco dopo è apparso il re dei demoni ed è così che ha avuto inizio la grande guerra se la creatura che è raffigurata qui fosse davvero il re dei demoni allora incredibile questa deve essere la grande guerra descritta nei libri di storia questi murali narrano la storia completa della guerra dell'esilio Link è una scoperta sensazionale fighissimo bellissimo adoro mi ha fatto morire la doppia oddio così siete contenti dai io me le lascio proprio tutte e due così come la fate perfetta senza dargli senza niente perché è poesia già così è bellissimo lascia lascia va bene ma me l'ho fatta apposta perché i fan meritano di essere felici e siccome io so vabbè con le dovute proporzioni so conosco la delusione che si prova quando magari un finale non è quello che ti aspetti un risvolto di una storia quindi perché non dare il contentino ai fan vedi che brava che cara senti io vorrei chiederti un attimo del fenomeno Bridgerton che poi sono anche abbastanza sono erudita in questo senso perché mi sono fatta una mega maratona nelle scorse settimane ho visto tutte le serie uscite finora perché per Filippa la mia adorata Pippa ha un'utilità nella serie e guarda fa ridere almeno quello fa ridere infatti mi fa piacere perché sono stata contattata da alcuni fan tra alcune ragazze che mi ha taggata una volta in una storia su Instagram su una delle scene di Filippa dove lei effettivamente è molto spassosa e mi fa ah in questo pezzo mi hai fatto ridere tantissimo ma ero io no non è vero non eri tu non eri tu e mi fa piacere che io sono sempre felice quando riesco a far ridere le persone è una cosa proprio che mi scalda il cuore e Filippa anche se appunto ai fini della storia non conta niente però è buffa è un po' una scemina insieme all'altra sorella perché ovviamente la sorella importante delle Federinton è Penelope perché c'è tutta la storia che gravita attorno a lei che in realtà è Lady Whistledown però comunque nel loro piccolo sia Filippa che Prudence mi sembra l'altra sono hanno il loro perché ecco quindi potremmo definirla l'inutile Filippa la pippa la pippa di Bridgerton no vabbè comunque le voglio bene mi diverto anche se quando c'è lei è un momento di leggere non lo so ora uscirà fanno una serie su ognuno sì ma la fanno sui Bridgerton non sui Federinton perché finora nella prima c'era Daphne nella seconda Anthony nella terza Colin e nella quarta Benedict che è l'altro fratello Bridgerton che avrà l'intrallazzo con l'attrice che farà il personaggio ora i libri non li ho letti quindi non so però appunto è tutto incentrato sui Bridgerton i Federinton sono solo di contorno alla fine e non lo so spero che Filippa ci stupisca ancora con effetti speciali anche nella prossima serie per quelle 30 righe che doppierò però almeno mi farà fare due risate mi auguro certo senti ma tecnicamente doppiare una cosa in costume ti richiede uno sforzo maggiore hai più difficoltà più facilità oddio ti piace dipende anche dal linguaggio perché di solito queste cose in costume hanno un linguaggio però quelle sono scritte però ci devi mettere un modo di altri tempi anche nel dirlo oddio poi Filippa è una macchietta quindi sì modo di altri tempi però poi lei in originale è molto c'è anche questa voce e non potevo farla proprio allo stesso modo quindi ho cercato con l'aiuto di Claudia Catani che è la direttrice di trovare una vocalità adatta quindi sono stata sono andata un pochino più di testa ho fatto un po' più locchetta però ecco sì Filippa non è un personaggio proprio che si può affrontare in maniera normale come l'eroina romantica perché è una scema è una scema che fa ridere con amore è una scema con amore mi è capitato di doppiare prodotti in costume penso a una vita la sop che è andata in onda sul canale 5 un po' di anni fa e anche lì più che altro il linguaggio era molto forbito si parlava si usavano dei per offendersi dicevano sei un indigente cosa che adesso adesso mi dici sei un indigente ti rido in faccia perché che offesa è cioè vabbè per l'epoca per l'epoca era una grande offesa effettivamente sei un indigente no io non ci sono parolacce ovviamente nelle serie in costume quindi non posso esprimere la camionista che ho dentro però insomma è un'altra chiave di lettura ed è divertente anche sia appassionante poi dipende dal personaggio almeno Filippa mi fa ridere ecco Filippa è carino farla nel frattempo Spanky mi sta finendo di uccidere la penna Elvis perché non bastava che rompesse il tappino perché vuoi fare queste cose che poi devi tagliare ci metti più tempo no no che taglio questo è tutto molto utile al programma molto utile certo devono sapere che tu mi stai martoriando la penna Elvis molto bene rispolveriamo un'altra cosa prova di abilità dato che no ti prego no la conosci dato che il primo è stato Max Alto gli facciamo fare la stessa identica parola di Max ah la probabilità è quella quella che scrive no 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 Max Alto l'ha scritta hai detto come Max Alto ho detto la stessa parola di Max Alto qual era? precipitevolissime volmente 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 no 8 8 non me ne raccolta basta non vado oltre però 8 hai superato Max di 1 vabbè dai 8 Sono una pippaccia tra i cosi, tra il quizzettone e accannate metà Tra l'altro mi sembra di aver letto che precipitevolissimevolmente sia la parola più lunga in italiano Può essere, o supercalifragilistiche, spirali, dosi, non esiste Però quella non è una parola con un senso compiuto, invece questa dovrebbe essere la parola più lunga con un senso compiuto nella lingua Vabbè, parliamo d'altro, questa prova è d'abilità Tra l'altro se continuava, nessuno si accorgeva dell'errore Sono umana e sbaglio anch'io, anche se sul lavoro dicono come pure tu sbagli, sì, sbaglio anch'io Allora, verso la chiusura sai che noi facciamo una cosa fissa, ossia prendiamo il nostro libricino qua Però questa volta ci tengo a fare una piccola precisazione Quale? Perché qualcuno nei commenti, voi sapete che noi siamo felici che scrivete Lo so cosa stai per dire, l'ho letto anch'io Ok, se ci date delle indicazioni, dei feedback vanno bene Però ci accusano spanchi di romacentrismo, ossia dicono il gioco del romano ha senso con gli ospiti romani E sarebbe carino che ognuno, magari fuori Roma, venga e facesse un qualcosa del genere col suo dialetto Potremmo aggiungere Io posso farlo comunque Ci credo, però l'impariamo il romano nasce proprio dal fatto che noi siamo a Roma in questo momento E quindi è carino sia vedere come persone di Roma interpretano il romano, sia vedere come persone fuori di Roma recitino una parola romana e magari dicono anche Oh cavolo, io sto però a Roma, non avevo mai saputo che c'è una fiatella che levete, no? Boh, significa questo Quindi io ringrazio di questo feedback, magari potremmo anche inserirlo successivamente, magari no Però se non mi piace qualcosa io metto i capitoli apposta Ah, i capitoli Vedete il capitolo, impariamo il romano, su, vada al successivo Su Vedete un capitolo, penso, oh no, a me sta, sta argomento non mi piace, questo giochino non mi piace, sto personaggio mi sta qua, capitolo Quindi sei anche magnanimo che permette a tutti di saltare interi capitoli Cioè io vi faccio la divisione in capitoli così che voi possiate dire no, se non mi interessa vado avanti Però nel frattempo vi saltate dall'argomento, mandate magari a cose che vi interessano di più Certo, però adesso vabbè, lei ha detto che ce l'aveva, io ero molto curiosa dell'insulto toscano No, ho un'espressione toscana, però prima vorrei cercarne una romana Facciamo così, ti facciamo recitare un'espressione romana che ti piace e poi ci dici invece quello Un'espressione toscana che io voglio, non vedo l'ora di condividere perché la amo tantissimo Chissà se la conosco Non credo, non credo E tu hai origini toscane Certo, mia nonna Montevarchi Ma come l'hai presa con Boris quando fanno i toscani a rovinare questo paese? Sono visioni, cioè liberi di pensarlo Poi posso anche dire, è vero, è vero, abbiamo rovinato questo paese, va bene, contenti? Sì, sì, ma lo dico, ma tanto siamo Chi lo dice coso? Dice Stanis Sì, Stanis Quando gli fanno l'intervista Il problema è che i toscani hanno rovinato questo paese Vabbè, è vero Invece a me piace un sacco l'umorismo toscano È vero, è vero Ti direi Stanis, sono d'accordo, abbiamo rovinato questo paese Siamo... Allora, un termine Eccolo qui, l'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Un termine, sì Schicchera Schicchera Avete presente quel colpetto che si dà con l'indice o con un altro dito fatto scattare a molla grazie all'aiuto del pollice? Avete appena immaginato una schicchera Di schicchera si parla anche di fronte a un colpo violento, secco, improvviso Vi è mai capitato di attaccare una spina elettrica a una presa e avvertire una vibrazione fastidiosa? Avete rischiato la schicchera Oh, ma ha dato una schicchera, mi sono spaventato Oppure, in maniera rozza, si usa anche quando qualcuno ha subito un trauma che ne compromette l'attività cognitiva Hai visto il suo franco, Borello? Eh, lo so, ha piato una schicchera Scusate, io non sono capace a parlare romano No, è bravissima È proprio questo Comunque l'espressione che io amo tantissimo e che non ho trovato forse perché sono una pippa io È staffa la golla Staffa la golla È bellissima perché d'estate è quello che effettivamente succede a me, faccio la golla Cioè, sudo come una maledetta e quindi, ce lo so, divento la carta moschicida Che attacca tutto addosso Però c'è da dire che quest'estate è stata una cosa impressionante Non so se c'è staffa muffa E penso che sarà sempre peggio Man mano che andremo avanti con il riscaldamento globale, col buco nell'ozono Con niente, io sono destinata a sudare Esatto, ma siamo destinati tutti Adesso io però sono curioso di sapere qual era l'espressione L'espressione, beh allora io c'è un'espressione che non vedo l'ora di condividere Perché è un tesoro veramente La usavano Io che ho chiesto a mia mamma Ho detto ma anche i bisnonni Sì sì certo, io l'ho sempre sentito dire La mia nonna, quindi la mia bisnonna la diceva E la mia bisnonna è vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900 L'espressione è prendere peto Come prendere peto? Prendere peto è un'espressione che si usa Quando bisogna descrivere una persona che è molto permalosa che se la prende Proprio una persona che si offende È la persona che prende peto Quando si dice madonna ha preso un peto Cioè perché magari fai un'osservazione su Ma come ti sei vestito? Ma magari questo ci tiene Insomma si offende, se ne va, risponde male, tiene il muso Ecco si dice ha preso peto Per dire che si è offeso Ecco io sono un'esperta, sono cintura nera del prendere peto Perché purtroppo per me sono molto permalosa Sono molto suscettibile E quindi mi capita spesso Però devo dire che voi romani generalmente Cioè siete molto autoironici Perché avete questa per me deprecabile usanza di offendervi Proprio di prendervi a male parole Oh a goione a destra ragazzo È una cosa che io non concepisco Perché io sento dolore fisico quando mi vengono rivolte le parolacce Io non ce la posso fare No perché sono poco intelligente Perché i permalosi sono poco intelligenti E quindi mi è capitato di dover mettere un freno a dei miei amici romani Che mi dicono ah stronza Ho detto no senti stronza ci chiami qualcun'altra non me Perché no Io il massimo che tollero è scema, stupida e grulla Perché sono toscana e quindi sono grulla Però non andate oltre perché mi offendo Perché se no prendo peto E questa è un'espressione bellissima Prendo peto Change my mind Ma gli altri che non sanno e ti guardano Non fa strano però prendo peto Sembra che hai fatto una buzetta Ma io non l'ho mai usata infatti qua Perché prima va spiegata Se io dico prendo peto Ma che vuol dire che è schifo Cioè mi immagino Perché ovviamente si associa a quella cosa lì Però non so perché Non ho mai capito l'etimologia di questa cosa Perché si dica prendere peto Per identificare la persona che si offende Non l'ho mai capito Però mi fa sempre tanto ridere Sì fa molto ridere Grazie di averci insegnato questa cosa Prego Anche noi non la useremo a Roma So qualcosa in più So qualcosa in più perché è figo Eh no Sì sì dai Insomma figo Sì però sì Sì sono come quelle espressioni Che tipo il nostro amico sardo No? J. Daru C'ha J. Daru Che ci ha insegnato Minca mia tui No? Minca mia tui Che vuol dire Minca mia tui Che sarebbe In realtà sarebbe Tecnicamente Da quello che ci disse La mia minchia A te Però adesso non mi ricordo In che senso lo dice Se lo dice come affermare Anche i sardi hanno cose Un po' strane Però sì Però mi ha fatto molto ridere Sto minca mia tui Come espressione Che non so se lo dice Parlo con origini sardi Posso chiedervi un favore Come ultimissima cosa Prima della chiusura Vorrei chiedervi Il permesso di recitare una poesia Ma sì Che bello Non in italiano però In che lingua? Eh ora lo scoprirete Ok Va bene Una specie di haiku Ma non è proprio un haiku Questa è la poesia di Pacciani Tradotta in giapponese Che bello Perché Non ci potete dire niente Nessuno ci può Mandare lo strike al canale Nessuno ci può accusare Di incitazione all'odio Esattamente Perché io non la potevo dire Perché ovviamente L'avevo chiesto a Mauro Il permesso di Allora io Effettivamente Raccontiamo tutta la storia Raccontiamo tutta la storia Sarebbe stato molto figo farlo Tra l'altro è uno dei meme Che mi esce più spesso Ebbè Perché insomma Ebbè Sì va bene Ma lei è qui Perché Eh va bene Ma lei è qui Perché Eh se non posso dire niente Cioè meraviglioso Però effettivamente Io nell'ultimo mese Non so perché O qualcuno mi odia O il Beh ce ne sono Potrebbe essere Ho ricevuto tre Ben Segnalazioni Su diversi social Di cui una Per incitamento all'odio Ma è l'algoritmo Che lo fai in automatico O è qualcuno Che proprio ti segnala Chi lo sa Secondo me Conoscendo il soggetto Ti segnala In alcuni casi È stato l'algoritmo In un altro caso Secondo me Qualche segnalazione Però Le ho tutte vinte Ovviamente Perché Insomma Incitamento all'odio Su Emiliano Coltorti Che recita Pennywise Eh si è ridicolo Su Erwin Su Erwin Io ho scritto Ho detto Scusate Qua c'è stato un errore Perché Stiamo facendo recitare Un pezzo Sì Di un serial killer Ma si tratta comunque Di un prodotto artistico Uscito su Netflix Come uno dei più visti E c'ho Il doppiatore originale Che sta Recitando Riproponendo Tanto di scuse Ok Però Effettivamente Non avrei voluto Che per un cavillo Come Ok sta recitando Ma Di In qualcosa di reale No Accaduto di reale Da una persona Reale Che ha veramente O no Non avresti potuto usare La stessa risposta Che ho visto Che Dato che il mio canale Adesso è Controllato Per questa cosa Per questa cosa O preferire Di dare Però in giapponese Non ci possono di niente No Certo Tra l'altro Questo Parli in giapponese No non è che lo parlo Io vabbè Ho guardato tantissimi anime Sottotitolati Quindi Diciamo che ho acquisito Familiarità con certe espressioni Con certe pronunce Ma non parlo giapponese Cioè Non l'ho mai studiata Come lingua Anche se mi sarebbe Piaciuto farlo Però Questo reel In particolar modo Tradotto Dall'intelligenza artificiale Me l'hanno girato In tantissimi Perché io sono diventata Mezza virale Da quando Un giorno A metà maggio Mi è venuta voglia Di Di scattarmi dei selfie Di pubblicarli Sul mio profilo professionale Non sapevo Che didascalia mettere Pensavo a una canzone Però ho detto No non voglio fare la seriosa Fare la struggente Mettere Poi tanto metto dei versi Di una canzone In inglese Che magari non capisco Cioè Gli altri non possono capire Il senso Perché ho messo questa E poi mi è venuta L'illuminazione Ho scritto Se in il mondo E inaspettatamente C'è stato Wow Un boato Tra i like Tra i commenti Ah Mia madre Oh mia madre Come ti permetti Mia madre Io rispondo puntualmente Con le emoji Della vecchietta Perché uno mi dice Un Gen Z O successivi Che mi dicono Mia madre Mi piglia male Ma vuol dire Che ti stimano Profondamente Sì lo so Che è un loro linguaggio Per dire Ma mi ha fatto ridere Jan Sante Tantissimo Perché Gli avevano scritto Ah mio padre E lui sotto Che cazzo dite E quindi Cristian Sai tutti noi E quindi No Sono tutti Impazziti Per questo Che poi alla fine Erano solo Era solo La trascrizione Della poesia Del poro pacciani Durante quel processo Farsa Che ogni tanto Mi vado a riguardare Dei pezzi Perché voglio dire Una triste parentesi Della storia italiana Che però Come dice Emanuele Ruzza È sempre bene ricordare Ciao Emma E quindi Lo ricordiamo volentieri E quindi Ho scritto sta cosa Poi durante una live Che ho fatto Suffrire inoltre tutto Su un anime Che ho doppiato Mi hanno chiesto Di declamarla Di nuovo E non c'entrava E l'ho declamata E anche lì La pagina De Cosmeme Era preso Ha estrapolato Quel pezzo E anche lì Non so Mai viste Così tante visualizzazioni Di una cosa Che riguardava me E quindi Volevo riproporre La poesia Anche stasera Però Non possiamo rischiare Quindi in italiano Non l'ho fatta Ma appunto Storyle Di Pacciani Tradotto Dall'intelligenza artificiale Me l'hanno girato Dopo queste cose Che sono successe Me l'hanno girato In 30 40 Guarda Guarda L'ho visto Guarda Guarda L'ho visto L'ho visto È stato tradotto In lingua Automaticamente Da un'app E quindi c'è appunto La stessa scena Di lui E proprio Le riprese di lui Durante il processo Che parte La poesia In giapponese Mi hanno detto Va bene La voglio rifare La voglio Declamare L'hai fatta solo qua Questa cosa Che bello L'unicità Senti ma Tu la poesia La sa a memoria Ovviamente Certo La posso dire? C'ha prendiamo Sto rischio Ma che c'è Quanto sono parole D'amore Non è Non è un'incitazione All'odio Posso dire Chi se ne frega Noi la facciamo E chiusura Traduzione Della poesia Appena ascoltata In giapponese Chiudiamo con la poesia Perché noi abbiamo Avuto l'esclusiva Della poesia di Pacciani In giapponese E adesso chiudiamo La poesia di Pacciani La poesia di Pacciani Così come Poi comunque Sono parole d'amore Non sono parole Che incitano Perché effettivamente Il suo era un messaggio Di speranza Quest'uomo Non è mai stato compreso Era totalmente fuori posto Perché non poteva Dire certe cose Nel bel mezzo Come gli ricorda Giustamente il giudice Lei è imputato Di sedici omicidi Di questo Che ci dobbiamo occupare Però lui Era un uomo Tremendo Però in questo È stato molto candido Se in immondo Esistesse un po' di bene E ognun si considerasse Suo fratello Ci sarebbe Meno pensieri E meno pene E il mondo Ne sarebbe assai più bello E comunque Ritorneremo Prima o dopo Wow Che chiusura Che chiusura Io già mi immagino Il reel Lei che recita in giapponese Le persone dicono Oddio Che cos'è E poi dopo Nello stesso reel Sì Tanto ormai Vanno queste cose Cioè Il trash tira tantissimo Più dei contenuti Infatti vedi Nuss Di Alberto Angela Che è stato Indegnamente Sì Anichilito Da Temptation Island E ha detto Aspetta chiudiamolo E lo facciamo Riprendiamo più in là Ecco Purtroppo ormai Anche se l'intelligenza È sexy E sono d'accordo Con Emanuele Ruzza Però ormai Al pubblico Piace la cavolata Aspetta Mi fa troppo ridere Mettiamo in gioco I sentimenti No Com'è che dici Vabbè Vediamo Vediamo Però noi non siamo Noi non seguiamo Questa linea Cioè sappiamo Quello che piace al pubblico Sappiamo quello che attirerebbe Però noi postiamo Quello che ci piace a noi Questo è una bella cosa Quindi a prescindere Poi spero che tu non abbia ripercussioni Ma non ho detto niente di sconveniente alla fine Cioè sono parole di speranza e di amore Giusto E poi ritorneremo prima o dopo Potrei anche dire che potremmo ritornare qua Tu qua Ritorneremo Ritorneremo prima o dopo Però a questo punto Facciamo i saluti di Rito Salutiamo tutti voi Che ci seguite Siete fantastici Tanti Bellissimi Continuate così Continuiamo a crescere Continuate a dirci anche le cose Che a noi non piacciono Perché ci dobbiamo anche In maniera costruttiva però Insistete Insistete Con il man che poi cambia idea Bombardate Allora io ascolto tutti Leggo tutti Rispetto le idee di tutti Ma faccio sempre come mi pare Questa è proprio una cosa Anche Non solo per voi Anche dai miei familiari Mi sa che eri il bulletto della scuola Nel senso è giusto ascoltare tutti E avere le idee di tutti E le opinioni vere di tutti Però è anche giusto Che una volta che hai sentito tutto Continui a fare quello Che in cui tu credi Certo Prendere il buono Magari dalle osservazioni Ma il resto Va bene Prendo atto Ma faccio comunque Quello che voglio Però questo Veramente non va a influire Tutto l'amore che provo per voi Poi c'è Un ringraziamento a Spanchi Prego Figuredi È un piacere E lo so che è un piacere Soprattutto per te Ma il grazie più grande Va a Martina Martina Grazie a voi Mi sono divertita un sacco È stato molto figo Averti qui con noi Siamo stati molto felici Adesso metterò come suoneria Il pezzo che abbiamo reggito È stato Di Overwatch Bello Oddio Mi ha dato una bellissima idea Suoneria Overwatch Quella trisciata in mane Molto bello Tra l'altro sta all'interno del gioco Quindi è proprio una cosa Che si ricrea Quindi ci vediamo al prossimo appuntamento Buona mattinata Buon pomeriggio Buonanotte Dipenderà da quando vedrete E non prendete la peto Questo video Non prendete peto Non prendete peto Ciao 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 Ciao